Musica 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 Mi allieva Ormai sarei al corrente del caos provocato dai ribelli Ho ideato un piano Ma dobbiamo agire in fretta Per ricevere i tuoi ordini Vieni da me al cimitero Il mio ultimo rifugio qui in città Fai presto Musica Musica Se la vostra borsa è ricca Avelin, ti si è vista di raro nella pallida ultimamente Non hai più bisogno di me? Sono venuta appena ho visto il messaggio Ho avuto un incubo, ho sognato che diventavi No, non importa Che ne diresti di compiacere il tuo maestro, mostrando la tua lealtà? Agatè, non devo compiacerti Io sono leale Cosa ti serve? Non so cosa tu e Messie Blanca stiate cospirando Ma è chiaro che in questo momento, nel caos delle rivolte Ulloa dovrà finalmente lasciare la balise e negoziare la pace È giunto il nostro momento Con il repitore morto e la città al sicuro La mia missione sarà terminata E troverò la pace Il governatore può prendere una sola strada Le altre sono bloccate o in fiamme Devi preparare una trappola E colpire al momento giusto Trovo E uccidilo Lo farò Lo farò Il necessario per un'imboscata Lo farò Lo farò Lo farò Lo farò Lo farò E' Grazie a tutti 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 Siamo bloccati Grazie a tutti 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 Grazie a tutti